Nome? Gabriele. Giorgio. Soprannome? Nonno. Giorgetto. Età? 34. 38. Come si chiama tuo fratello? Giorgio. Come si chiama tua sorella? Gabriella. Tre aggettivi Gabriella per definire Giorgio? Sbadato, distratto, vabbè bravo nel suo lavoro. Tre aggettivi per definire Gabriella? Ipocondriaca, disordinata, un po' addormentata. Gabriella, il pregio più grande di tuo fratello? Il pregio più grande? Buono. Il pregio più grande di tua sorella? La dolcezza. Il principale difetto di tuo fratello? Che si secca subito. Il principale difetto di tua sorella? Permalosa, permalosa. Cosa gli invidi? Che ha la famiglia. Tutti questi impegni che ha con l'ANFAS, l'equitazione. Cosa fai nella vita? Vado all'ANFAS. Artigiano. Un tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è maturare, diventare grande, avere una famiglia. Bacca a vele. Il colore preferito? Rosso. Blu. Il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito vada del fritto. Pasta. Carne o pesce? Io carne. Pesce. Dolce o salato? Dolce. Salato. Un posto a cui sei molto legata? Casa. Un posto a cui la tua canzone preferita? Le canzoni italiane? Domenica bestiale. Cantaci un pezzo della tua canzone preferita? Aspetta la mia, nemmeno. Ma che domenica bestiale? Ma che domenica con te? lo so. Domenica ti porterò sulla. Film preferito? Film preferito? Tutti i film d'orrore e anche film vecchi tipo Totò. Guerra e Serlan. Cane o gatto? Io cane. Cane. Giorno o notte? Notte. Giorno. tardi la sera o presto la mattina? Tardi la sera. Fai un sorriso? Chi mangia di più? Lui. Io. Chi dorme di più? Lei. Chi di voi due è più brava ad andare a cavallo? Lei è decisore. Chi di voi due è più bravo nella falegnameria? Io. Chi è più pigro? Io. Bene. Chi è più ordinato? Lui. Io. Il ricordo più bello di quando eravate piccoli? E quando eravamo tutti e tre, io, lui e mia cugina Donatella. Sì. L'intervista è finita. Cosa vorresti dire a tuo fratello? che deve cambiare? No, tu devi rimanere così come sei. Salutatevi. Ciao. Salutate tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.